Che cosa? Tarapapaa Musichetta drammatica che in realtà non c'è perchè acqua a toccare Questa dovrebbe essere Petalipoli Si Dannazione, quel vecchetto mi ha umiliato Guarda la palestra Guarda sopra la palestra Ah, ah, è cosmo, si c'è una porta No, 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 no Guarda i bordi sopra NOOOO Mi ha umiliato, non posso buttarmi giù Devo fargli da pagare a ogni costo Mio signore, so che non dovai permettermi Ma l'altra sera, in un bar Ho origliato una conversazione tra due tipi Parliamo di uno strano Fossile del Montelucio Secondo la leggenda pare sia legato al controllo mentale Ma non c'è nessuna certezza Gli esperti stanno facendo parecchi esperimenti Credo che sarebbe un ottimo È perfetto, sono davvero un genio Ma veramente Zitto puttanella Lo sappiamo tutti che Che tipo di locali frequenti Piuttosto Lucio Recati subito a Montelucio E non osare tornare senza quel dannato fossile Certo, più che lupo Lucio Qua sembra un artigliere della rivoluzione francese Un cartello che non hai letto È incredibile Oh va bene l'orlo indietro Dislessopoli Aspetta, puntiamo Come si chiamerà mai il Bosco Smeraldo? Bosco Smerdo Minimo Attenzione Il Bosco Smerdo E' una meraviglia L'avevo quasi C'era c'era quasi Docked out of tennis, ok? Cosa hanno di sbagliato questi alberi? Mi hanno detto che andavano a comprare sigaretteci in cuore fa Mi hanno detto che andavano Mi hanno detto che andavano Mi sarebbero andati Porca Puc***o Shade No Ed io ho una pagina Facebook Basta Dio Brando Dio Brando New Meta E' tornato a Caterpirla Hi, I'm Berg Wilson Today I'll teach you how to survive in Bosco Smerdato Più caccola Non dirmi che cacuna Eeeh 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 Cioè tu non capisci altro che Pene Umbria Pene Umbria in confronto a una merda Esatto Che vada a quel paese l'hacking serio Sì Umbria fa proprio cacca Esatto E lo so perché c'è mio zio che lavora alla Nintendo e mi ha passato la beta Hanno le custom music però fanno beep boop E quindi sono brutte E non lupano neanche Eeeh No quella non lupa in scarso e dicono Ti sei dimenticato Tipo rilasciamola la beta 2.1 in scarso e dicono ok Docta Perché non lupa villaggio Sofo Ti ricordi quando mi hai cancellato tutte le percussioni da Pene Umbria Io ho lavorato su quella rom Che mi è passato Dove c'erano già le percussioni messe a posto Davvero dove cazzo Io no no ti giuro non lo so Non lo so Si non Wow un osso Lo dimmi Allora io mi son perso qualcosa Tu in fase di montaggio te lo rileggi Eeeh Probabilmente dovrai esprimere per me il mio disappunto E quindi facci metto la meme di George che dice disgusting Sì Va bene Mi ricordo ancora del Preorder di Jigglypuff da parte di Diobran No quella è una raggina anata Tadda 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 Punta il livello di Stuart Best video dell'internet.it Dopo quello di Capitan Falcon di Shadow of Chaos Ah si, quello di Capitan Falcon Salve Inatale Sì C'è un triste aroma di merda nell'aria Bosco smerdato 10 euro che il cartello Conterà qualche errore grammaticale Continuti Tutti i Pokémon impegnati in una lotta Se pure breve sudano Ti devo dare 10 euro Esatto, ricordatelo Cazzo Catturare problema facile è stato subito Pokémon che più da D1 è Non potrei avere una totale certezza Mio figlio ha avuto un grande maestro, Luca Giurato Avrei preferito Michele Missieri Hai tutte le carte in regola per fare grandi cose con i Pokémon Non sono allenatore, ma so come aiutarti a vincere Esatto Non sei un allenatore, quindi che ne dici Tu fai il tuo lavoro, io faccio il mio Quindi rinunci ai miei preziosi consigli Sì Oh, meno male, non avrei saputo cosa dirti Non ci capisco un cazzo io Acab Plot twist, Luca Giurato, in realtà è Mister Fuji Dizionario No Ti prego Dai Con il muda 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 Mudo Mudo limer Posso? Boh Ma andiamo di ho parlando per sicurezza Cosa? Eu sou o meu próprio, pero eu esperanto non morirà Non no 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 Pero eu esperanto nunca morirà Muda 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 Non è molto eff... Sceee Fui una sciocche sassata, di che tipo è? Al momento questo è l'ultimo episodio Semplicemente perché ci stavano stufando E perché presto arriverà anche la recensione di Marron Mirror Da parte di Fulvio Quindi stay tuned Peace